Ciao, sono Alberto Angela, spero tu stia bene. Prima di cominciare questo video, lascia un bel mi piace e iscriviti. E se vuoi che mi fotta la madre di un tuo conoscente, contattami via e-mail al snoutmoop, treblalos, toich, gliemianus e buona visione. Raga, andiamo con un bel veicolo da test, perché oggi abbiamo una rampa molto... E ma off me! Cominceremo! Da questo punto andremo verso un meraviglioso crash. Non è vero, oggi non crasha niente. Praticamente, cosa succede? Che oggi è una rampa strana. Qualora dovesse avere una vettura che ho già utilizzato, la prima verrà completamente eliminata. Ma anche se avrò una dietro l'altra la stessa categoria. Cioè, se mi spawna una berlina, questa berlina salta, me ne spawna un'altra subito dopo, la prima viene eliminata. Comunque, la direzione è una roba del genere. Prenderemo principalmente questa strada, quindi quella che arriva più su se la vince. È sacrosanto! Ma prima di vedere i danni che faranno i treni sulla rampa e di che cosa combinerà la VAR, volevo parlarvi di due cose. La prima cosa è che ho iniziato il settimo torneo delle rampe, quindi se volete assisterne in diretta a quello che succede, mi trovate nel link di Twitch che è qua sotto da qualche parte. Uscirà ovviamente anche su YouTube, ma con un ritardo di all'incirca dieci giorni. No, God, please, no! E come seconda cosa, volevo parlarvi di Top Eleven 2023. Lo conoscerete tutti, è il pluripremiato gioco mobile free to play, dove puoi gestire la tua squadra di calcio. Disponibile su Google Play, Apple Store, Huawei, Microsoft Store, browser web, dappertutto praticamente. Ti basti uno smartphone per diventare il migliore allenatore, anzi dirigente in circolazione. Scusa, non lo faccio più, perdonami. È stato giocato da 260 milioni di persone in tutto il mondo. Ha ottenuto una valutazione di 4.6 su 5, da oltre 5.5 milioni di recensioni. Diciamo che non sono proprio poche. Inoltre è anche disponibile in 21 lingue diverse. Quindi se un giorno vi svegliate e avete dimenticato come si parla in italiano, dovete non lo so, cambiare la lingua e mettere arabo. E riprendere così la vostra scalata verso il successo. Con Top Eleven è come avere il proprio universo calcistico sempre a portata di mano, dove sei praticamente responsabile di ogni aspetto del tuo club. Dell'ingaggio di una squadra di superstar, alla creazione del tuo stadio. Insomma, il club è tu, puoi fare esattamente quello che ti pare. Puoi licenziare tutti e andartene in un altro stato con i soldi. Inoltre puoi fare squadra, giocare con i tuoi amici, colleghi, vincere campionati, personalizzare il campo, collezionare magli, stemi e tanto altro ancora. Possiamo in ogni stagione di Top Eleven destreggiarci in mezzo a 4 fantastiche competizioni. Il campionato, la Coppa, la Champions League e la Super League. E durante questa stagione ci sarà da divertirsi. Con eventi a tempo limitato, concorsi e premi per festeggiare questo speciale periodo calcistico. Quindi se non avete rotto il telefono come ho fatto io, entrate dunque nell'entusiasmante mondo di Top Eleven 23 in modo assolutamente gratuito. Grazie al link che trovate sotto in descrizione o bloccato nei commenti. E provate l'evento speciale Penalty Clash. E se l'avete già fatto, ditemi cosa ne pensate. Ma detto questo, è arrivato il momento di ritornare alla mega rampa di oggi. Prima o meno il color random di questo oggi unacchino custom. Esploriamo un po' questa rampa che attualmente sembra molto gustosa. Si mette sui 540. Vorrei anche cercare di notare di più le velocità perché ultimamente me le sto perdendo tutte. Tu vai a beccare un palo. Arriva qua in fondo, primo segnalino per la Kino. Ci sta, prossimo veicolo random. Bravado Bison Furgoni. Se mi spawnerà un altro furgone dopo questo Bison, verrà eliminata la prima. Sì però... Ok, il Bison ha deciso di diventare Stephen Hawking. Vai, se riusciamo a prendercela bene da sta parte. 512 forse. Fa il primo posto il Bison. No, c'era un solo palo e un metro così libero. Va bene, leggera smontata. Ma il Bison a noi piace anche rotto. È bello anche così. Prossimo veicolo random. Doctag di servizio. Che ci prova anche oggi. Il problema qual è? Sempre la stabilità. 388. Si porta già avanti per l'asino, ok? Per regalarci un asino disgustoso a sto punto. Comet retro custom per le sportine. Siamo contenti? Ovviamente no. Oh raga, velocissima. 612... No, non come lo zio. Grande colpo. Si ribalta. E attualmente trova la prima posizione. Sportive classiche. Fagalò la vedo in c***a oggi. Sì ma nel senso buono. Cioè io lo dicevo come se tu stessi andando bene. Il grande controllo sì di mia nonna. Prossimo veicolo random. Spero... Un giorno. Vedo anzi un futuro meraviglioso dove gli slam fans saranno tutti bannati. Vorrei dirvi che mi dispiace ma mentirei spudoratamente. Sportive classiche. Xeon Classic. 6 prequel della Xeon Bella. Tu essendo l'antenato... Ci siamo capiti. Madonna di Gesù Cristo che è sta roba. Ma che... Premio Harry Potter tipo. Next veicolo random. Desert Raid fuoristrada. Questo metodo di utilizzare la rampa con l'eliminazione del primo nasce da un'idea di boicuttare in qualche modo... Sì ma sto imbecillo. Comunque arriva qua segnalino prossimo random. Shaft 3PL. Velocissimo ricordiamoci le sue prestazioni leggendarie 590... Leggendarie insomma ha fatto un primo posto l'altro giorno. Oh... Se non fa... Calma. Calma perché potenzialmente non è una posizione che ti garantisce il primo posto questa. Diciamo che cominciamo a entrare nelle posizioni quelle che contano un po' di più. Intanto però primo posto Shaft 3PL. Prossimo veicolo random. Sultan RS per le super. Fa abbastanza vomitare. Però teoricamente è più cilindrata no? Se atterra bene qua... Non dico il terzo... Orco d'Inci non me aspettavo così brutta. Ve lo giuro in prospettiva pensavo che fosse tipo un prato questo. Non ci sono problemi perché adesso arriva Freddy il pagliaccio. Quasi. Coil Voltic. Considerando che è una doppia super. Una dietro l'altra. Si elimina il primo. Shaft 3PL viene eliminato. Ma a noi non interessa. Vai. Grande salto. Salto orribile. Se ne va con la Sultan. Non fanno tipo comune... No 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 lei becca al cammino. Prossimo veicolo. Va bene. Coupé. Oracolo XS. No l'oracolo vince. Ce li ha questi colpi. La vedo lenta. 520. Sì è una porcheria. Però la porta in strada. Vabbè. Ok. Va bene. Terzo posto. Io questo non l'ho mai contato il calare fuori strada. Ma direi di rimetterlo dentro. Cioè si gareggia il Doctag. Dai. Veloce. 515. Lotta per l'asino. Ma che? Sì vabbè anche questo se ne va in villeggiatura. Segnalino io neanche glielo darei. Minivan Custom Furgoni. Potenziale primo posto. Vai. È lentissimo. 560. Lo Shafter ha fatto quasi 600. Dipende tutto dall'atterraggio. Ma il minivan è un campione nell'atterraggio. È vero che lo Shafter è già stato eliminato. Nuova prima posizione. Per il Vapid minivan. Che arriva qua in fondo. Queste sono le posizioni che già apprezzo un pochino di più. Next veicolo random. Macchina delle guardie. Quella più inguardabile. Cioè nel senso non visivamente parlando. Ma per prestazioni paragonabili a un carrello della spesa. 500 che prenderà con una preghiera. Aramaica al contrario. 503. Oh se se la prende le... Sì va, sì, ciao. Prossimo veicolo random. Vapid Bullet. Regalaci quella prima posizione che nessuno si aspetta. Ma che sicuramente hai nelle tue corde. 520. Ok. Le prime vetture sono sempre un po' da rodaggio. In ponte Ruiner Mascol. Potrebbe fare 1v1 creativa. Con il Custom. Là con il minivan. La vedo muy rapida. 580. Eh però se becchi i cartelli vieni... Tu sei un buffone. C'era un duello fantastico. Non ho parole. I clown mi devo trovare. Arriva qua. Non riesce a superare il Custom. E si ferma. In seconda posizione. Mi raccomando. Oggi voglio una bella rampa. BF in action. Gode di una velocità superiore. Il controllo è tipo... Anche qua ritorniamo sempre con la storia del bidet con le ruote. 600. Sì però dai contro la casa. Oggi non ci dobbiamo fidare di nessuno. BF in action. In terza posizione. Barca. E poi andiamo con una Declasse Stagnon Masco. Lei fa schifo. Non mi aspetto niente. Però magari 517 puntate verso la strada. Se supera la piopa qua che poi la palma... Oh! Tralasciando il controllo sempre molto precario di questo cesso di macchina. E quinta. Meravigliosa ambulanza emergenza. Per essere veloce è velocissima. Tra le più veloci oggi sicuramente. È la più veloce. 620. Il punto qual è? Che essendo veloce si controlla di merda sulla rampa. Però se la prende bene inderappata... Non è il nuovo primo posto. Difficile da gestire sulle rampe. Quindi un po' all'acchia anche il suo salto. Possono spuntare ancora tante vetture che possono prendere il minivan. Tranquilla Felzer. Ecco, le macchine sportive super da tenere d'occhio. Secondo me oggi grande favorita la Futo. Se finivi fuori eri il pagliaccio della giornata. Sapeva che era l'unica cosa che poteva darle un senso quest'oggi. Prossimo veicolo random. Sei stata fantastica. Una Weeville. Va bene. No, ma questa non becca neanche i 500. Attenzione. 5 e 40. Vuol dire che vai in strada. No, dai. 5 e 40 mi finisci in questa strada. Ma sei un clown. Next veicolo random. Beh, questo lo lasciamo poi a Osama Bin Laden. Barrage. Cioè, è una vettura che nel torneo delle rampe è passato come asino. Quindi diciamo che... Oh! Grande il premio Orfei quest'oggi. Ci siamo. Allora ha fatto Orfei. Carla Fracci. Poi come finiamo fuori? Arriva qua in fondo. Non è l'asino. Prossimo veicolo random. Bravado half track militare. Doppio militare di fila. Questo vuol dire che l'ambulanza senza meriti se lo prende perché ahimè il Minivan viene eliminato. E lui adesso se la gioca per l'asino. Neanche è un abominio. È una boiata proprio. Cioè, si guida di m***a. Cioè, tu sei entrato solo per rompere il c***o. Cioè, tu sei entrato solo per levare... Vabbè, prossimo veicolo random. È una roba incredibile. Hustler arriva alla macchina del trafficante. Mi spiegate perché mi è scoppiato un aero. Neanche mio. E c'ho due stelle. Quattro e settanta. Potenziale asino. Beh, l'Hustler, dai. Non è l'asino. Si prova di perdere le guardie. Questi mi vengono a tamponare. Va bene così. Surano, sportive. Brava, la tieni tu. La tieni perché vuoi vincere oggi. Primo detto. Sportive super. Madonna, oggi sono formidabili. Il loro controllo è il migliore del mondo. La Surano mi ha messo praticamente un... Stiamo zitti. Dobbiamo stare zitti. Perché la Surano potenzialmente è forse prima. Quando c'è da dire brava, c'è da dire brava. Brava la Surano. Arriva qua. Primo posto per lei, dunque. Dai, qualcosa di bello. Tanto lo so che mi c'è... Lo sapevo! Non c'è niente da ridere. Abbiamo di rail. Purtroppo queste rampe vanno a finire così. Ma ricordiamoci che c'è la pala. E la pala ci può fotere il di rail che non può voltare. Bravo che si ribalta. Così se ne va fuori. Tranquillo, tranquillo. Mamma mia, che bello che fa l'asino. Guardalo lì che fa l'asino. Guardalo lì che fa l'asino. Guardalo lì che fa l'asino. Quanto ci piace. Di cosa fai? Dove va? È Spider-Man. È tipo normale questa cosa. Calma. Grande asino. Quindi festeggiamo con di rail che trova il somaro. Prossimo veicolo, Nando. Un bel roccoto. Una delle vetture migliori. Una delle vetture che... Un secondo. Quando mi parte la registrazione perché mi ha cambiato il profilo del mouse. Cerca di boicottarmi il treno in qualche modo. Mi fanno le macumbe. Allora, roccotone. Da primo posto oggi. Da quando è che non vinci la rampa? Non so nemmeno se tu l'abbia vinta quest'anno. Sei uno dei grandi assenti. Guardalo. Me l'ha cambiato di nuovo. Ma ha cambiato il profilo del mouse due volte. È comunque primo. Va bene così. Interessante, signori. Questo Sasquatch apocalisse fuoristrada a noi piacciono queste vetture. Comincerà a rimbalzare perché c'ha i suoi problemi. 400. Assorbe il danno. Attenzione perché se torna indietro... Niente asino. Non dico neanche purtroppo perché alla fine non mi dispiace nemmeno così tanto. Next veicolo random. ETR1 per le super. Tutte le super e le sportive sono buone. Attualmente podio abbastanza particolare perché Rocoto davanti. Secondo posto. 620 tra le più veloci. Secondo posto. Abbiamo. Beh, direi ancora per poco perché... Mi sa che... Ok, benissimo. Ripetiamo tutto da capo perché primo posto ETR1. Secondo posto. Rocoto. Terzo posto. Abbiamo. Surano. Non male comunque. Direttante mi mancava ancora. Si complica il primo posto perché l'ETR1 ha fatto una cosa fantastica. 4 e qualcosa. Ma vai a destra. Clown. Ma preso in parola non si volta più. Ponder. Può essere sia il grande asino. Può essere il primo posto di cui avevamo bisogno. Oppure può uscire. Ma lui è grande. Lui è potente. Lui è... È un coglione. XLS SUV. Comunque rampa abbastanza stramba perché grandi vetture a parte Rocoto e il minivan. Ne è che le abbia avute, eh. 600 lì quasi. 580. La più veloce mi sembra sia l'ETR1. Ma forse l'ambulanza. No, dai. Ma il coglione adesso. Oh, malachi. Prossimo veicolo random. Si mette comunque qua sulla strada. Madonna. Io ci vedo sempre dei treni con queste cose. Brickade di servizio. Il classico clown che non serve a niente. Non ti porta a niente. È incredibile come nemmeno lui riesca a battere di Raylogy. Asia Berlina e della neve. 500 in uscita me li prende. Sì, 520 anche. Vado, se l'Asia fa il primo posto e mi pazzisco. Perché vai qua? Leggermente avanti. Che sei una vettura che va bene nella strada. Next. Doppia Berlina. Di conseguenza abbattuta l'ETR1. Quindi, conoscenti. Potenzialmente è più facile. Il Rocoto rimane secondo e a sto punto terza. Abbiamo la Surano se non ricordo male. Prende la pianta. Quasi premio Giovanni Peccati. Baller SUV. Presente in tutte le rampe. 600 quasi toccati. Oggi, anche se per poco, ti metti davanti. Io un po' godo, ragà. Io un po' godo. Io un po' godo perché è doppietta di SUV attualmente. E vi devo dire, il Ballerone. Interessantissimo per quello che ha appena fatto. Perché sarebbe arrivato a una distanza minuscola dal minivan. Che attualmente oggi è il primatista. Baller. Bellissimo. In prima posizione. Secondo Rocoto. Terzo. Surano. Project eventi super. Insomma. Il Baller oggi domina davanti addirittura un suo compagno, diciamo di, come dire, di combricola. Non so come dire. Comunque sono tutte due SUV, quindi. Penso di aver mai visto un Baller davanti a un Rocoto. Quindi oggi grande evento. Lei si incastra, come sempre, qua nella zona di villeggiatura. Ma chi se ne frega. Perché la prossima vettura ci regalerà un primo posto. Mozzafi. Non lei. Volevo dire la prossima. Madonna di Cristo. Asterop Berline. No, dai. Asterop stai buona. Ma oggi arriva il Moonbeam Custom. Non si rimina nessuna vettura. Anche lui è il grande vincente quest'anno, eh. Quest'anno molto partecipe nelle rampe 5.60. Però è leggermente... No, no, no. Lui è perfetto. Lui è perfe... No. Non è perfetto perché si è mezzo sfondato. Non è forte abbastanza per prendere colui che guarda tutti dall'alto. Ovvero Baller, LPL e tutte le altre cose nel suo codice fiscale del nome. Secondo posto per il Moonbeam. Un bel random di... Nel senso... Anche meno, no? Canis Camacho fuoristrada. Tanto lo so già che il Baller verrà tirato giù. Non perdote. Il Baller verrà semplicemente accoppato da un altro fuoristrada che salterà fuori dopo di questo. Sebbene sia raro. Il Camacho. Che ritorna il Camacho negli anni scorsi con il reata facevano a sverle per chi era più forte. Oggi no. Un Boxfield adesso io lo gradirei. Io cosa ho detto? Spunterà un secondo fuoristrada. Che è impossibile ma succederà. Ed eliminerà il Baller. Come next vettura a ramp buggy. Diventa più semplice fare il primo posto dunque. Ramp buggy che non gode. Dei favori di niente perché salta da far schifo. Lei va in villeggiatura se ha fortuna oppure va da binko qua. Prossimo veicolo random. Non perdiamo assolutamente nulla. Non è il mio furgone, dai. Se spunta una vettura che è già saltata. Si elimina nuovamente quindi anche il Moombiam. Perdiamo anche lui. Torna davanti Rocoto. Hotknife, Mascol. Rocoto primo. Secondo posto per la Surano. E il terzo ovviamente non me lo ricordo più. Dovrebbe essere l'XLS se non ricordo male. Oggi l'Hotknife si è svegliata... 398, madonna. Aria sportive. Pericolosa perché se l'ETR1, che è una macchina veloce, ha fatto qualcosa di bello, la paria dall'alto della sua velocità. Incredibile. 5,80. Ha perso un po' di aderenza. Sì, vabbè, va il tipo in Pounder adesso deve passare. Stupido. Incredibile Pounder. Signori, è una strage. Bullet di conseguenza. Rocoto eliminato. Ritorna davanti la Surano. Pigaglie sportive classiche. 650. È la più veloce quest'oggi. La più... Stai zitto. Che tu come... E lo sapevo. E lo sapevo. E vabbè, ragazzi, fermiamo qua. Primo posto comunque. Prossimo veicolo random. Burgone con braccio elevatore. Senza braccio elevatore. Ma con cassone. 600, li prendi. No, 5,60. Si atterra bene. Può egregiamente vincere. Se l'andare contro mano non è la scelta migliore perché le macchine spavano alla fine. Oh! Ma non c'era niente. Ma ha beccato una cosa che non esisteva. Gester sportive. No, 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 no. Dai, che puoi fare qualcosa di buono oggi. Sei inutile. Lifeguard emergenza. Il lifeguard oggi, ricordiamoci, che prende da un Granger. Il Granger, vettura che... No, vettura che non fa mai niente di bello se non tocchi il semaforo. Abracadabra. Cosa ha fatto? Va bene così. XLS. E qua ce ne fa pure un'altra. La pigaia e se ne va. Scrumjet. 4,40. Va bene. Coraggio. Dove sono le vetture che contano? Non questo. Due super. Una dietro l'altra. E passa a condurre teoricamente l'XLS. E abbiamo una nero super che può vincere oggi. Leggermente più spostata. Brava la nero. Bravissima la nero. Signore, applauso. Brava. Brava, brava, brava. Non batto se no si andano i colpi sul microfono, però. Primo posto. Dunque per lei. Poco distante anche dalla pigaia. Quindi non una prima posizione così negativa. Signore, la Weevil elimina. Dai, ma la nero poteva festeggiare qualcosa di bella. È appena arrivata. Oggi un po'... C'è un piccolo problema, signori. Perché se mi fa a eliminare tutte le vetture e rimane solamente l'asino, l'asino diventa primo posto. E io attualmente mi segnalini e ne ho solamente due. Non succede perché non succede. Ma se succede... Il primo signore è ignota attualmente. Le cose. Ci rimangono due segnali. Con calma. Sta per avverarsi qualcosa che non si avvera perché non si avvera. Ma se si avvera chiudo qua la rampa. Grazie. Pegassi Morro. Sportive classiche. Ok che vince andando in strada dribblando qualsiasi. Non dribbli niente perché tanto... Lo sembri cavo. Hola. Speravo la saltasse. Scopro adesso che la Morro ha la ruota davanti. Primo posto. Prossimo veicolo random. Oh, brava Noyuga. Attualmente per come vanno le cose. Direi non è asino. Ma è in terza posizione. Lo Yuga fa delle cose strane. Si inventa. Io vorrei avere nella vita il sangue freddo di quest'uomo. Secondo posto per lo Yuga. Sicuramente questo veicolo migliorerà. L'ho già avuto. Il Rancher. Poi non so se l'ho tagliato nel video. Ma l'ho già avuto perché è andato fuori. Eliminiamo. La Morro. Primo Berline. La prima su strada fa bene. La prima su strada raga vince. Cioè se non si mette a fare biliballo qua. Lo Yuga rimane davanti. Terzo posto. Questa rampa si sta trasformando in una pagliacciata vedo. Vagrant. Per il controllo. E sicuramente nella top 5. Tu ho delle vetture migliori quando fai una challenge su GTA. Quelle belle divertenti dove scoppiano le cose. Winnie. Sick Classic. 456. Sei un po' triste cara mia. Bucanier Custom Muscle. Sei un po' come la Kino. Le vetture che sono soprammobili. Ce le metti. Oh. La Kino ha girotta. 570 per la Kino. No cos'è? Scusate la Bucanier. Vabbè sono uguali. Vai Bucanier. Per restare a tema volevo dire qualcosa di un po' troppo volgare per YouTube. Quindi non lo dirò. Però avete capito cosa intendevo. Trova comunque il terzo posto. Super. Cioè se me la vince l'SC1 o no però. Mi sta un po' sulle palle ultimamente. Però salta meglio delle altre. Così devono fare. Io mi sono di nuovo illuso con il giardinetto pensile contro il muro. Ritorniamo a demolire. Lo Yuga ci abbandona. Next. Una vettura buona. Un Boxville. 600. Questo è il Boxville che voglio vedere. Trova la prima posizione. Vai. Sì vabbè però contro mano magari no. Oh. Premio IT. Mentre vado prendo il volo e vado contro una. Fammi vedere un attimo che si sia selezionato bene. Questo oggi è fantastico. Perché mi devi dare un Bobcat che è furgone e io devo eliminare il Boxville. Vai. Ti sta bene. Blista compact e sportive. Ho un sogno. 4.60. Blista sei inutile. Prossimo veicolo random. Vai Zion. Io dico una rampa dove può vincere chiunque. Poi mi vince la Zion. La Zion ha già vinto un botto di volte. Quest'anno. Basta. Vai. Eh sì ma. Oh. Però indemoniata. Atterraggio con possessione strana che comunque la porta a fare una posizione eccellente. Primo posto comunque per la Zion. Secondo e terzo. Non me li ricordo. Niente coupé. Non mi hai mai dato. In una rampa due vagrant. Una dietro l'altra. Oggi è la disgrazia. Se la smetti di darmi ste auto che ho già avuto. Magari preserviamo un po' di più la rampa. E invece no. La rampa è quasi finita. Io mi ritrovo. Una buca in il primo. È un treno. Che sebbene sia Asino oggi non demorde perché Asino non l'è più. Il treno adesso è secondo. Io ci avrei sul podio. Next veicolo. Ditemi che non è vero. È un complotto. Lo sapevo. Quando vanno così ste cose. È normale. Meno tre. Meno due. Meno uno. Vai. Vabbè raga lo sapevo dai. È una situazione orribile. Io stavo per chiamare le ultime quattro vetture della mega rampa di quest'oggi. E le chiameremo attualmente. Primo Lando. Secondo posto Bucaner. Terzo posto. Direi il prossimo Rando. Penumbra FF. Può ancora migliorare. C'è una rampa iniziata benissimo. Una rampa che sembrava andare anche nel migliore dei modi. Finita così mi sembra leggermente rubata. Brava Penumbra. Alla caccia del Lando. Cerca di salire ma Lando è troppo avanti. Secondo posto per la Penumbra FF. Non mi dare l'Emperor. Questa Winnie's Future Shop Compatte. Che elimina il Lando. E rimane prima la Penumbra FF. Signori Godo. No non è vero. Raga non è vero. Non è vero. Un altro treno. Non l'ho appena tolto. Cioè ogni volta che ho su un treno mi parte l'ernia. Per favore vattene via. Scusi. Qui abbiamo bisogno della VAR. A fine rampa torneremo qua per vedere quanti metri dista la loro rispettiva posizione. E capiremo chi è primo o chi è secondo. Penultima vettura della rampa di quest'oggi. Z-Type. Sai il fatto suo. Ma se proprio è l'ultimo il primo viene eliminato. Chi eliminiamo? Vai. Dai no. Colpo da clown. Che comunque vale il terzo posto. E siamo arrivati con l'ultimo veicolo random della mega rampa di quest'oggi. Dopodiché entrerà in azione la VAR. E io chi cavo adesso? Morro già usata. Io dovrei cavare la botte. Teoricamente la botte è più avanti. Siamo a una distanza di 511 metri. La penumbra 494. Eliminiamo la penumbra. Andiamo col penultimo veicolo. Abbiamo disposizione. Oggi un massacro. La paria. Perdiamo anche la botte. Ha visto più il podio di rail oggi di qualsiasi altra vettura. Arrivato addirittura secondo da qua. Un finale mostruoso. Mi dai la penultima vettura? Cani smesa fuoristrada. Che si è rotta una ruota subito. Cioè è un finale imprevedibile. Anche un cani smesa Monco potrebbe vincersela. Eh no 504 dio. Cioè nel senso vai in villeggiatura. Però fa il terzo posto. Siamo arrivati con l'ultimo veicolo random della mega rampa di quest'oggi. Una delle rampe più fuori di testa di quest'anno. Toreador. Il podio è ancora da scrivere. Ma il treno si posiziona asino. Questo già lo sappiamo perché non credo che lei possa fare vomitare no? Cioè spero di no. Vai poi qua magari si boicotta da sola. Oh impazzita. Impazzita. Impazzita la Toreador sul finale. Se la va a vincere. Chiude in prima posizione. Con il saldo perfetto. Il classico powder che si mette a rompe i maroni. Vince lei. Grazie. Secondo posto per la Z-Type. Terzo posto. Un incredibile buca in il asino. D-Rail. Il più buffone di oggi.